Io invito tutti a rileggere l'articolo 120 della Costituzione, non per i poteri sostitutivi che ho già detto possiamo utilizzare e finora non abbiamo utilizzato, ma la disciplina chiara che ricorda che la Regione non può istituire, oltre ai dazi di importazione, esportazione o transito tra le Regioni, non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose nel limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Potrei continuare, ma non lo faccio perché lì si entra poi nei poteri sostitutivi. Se la comunità scientifica dice che non ci sono passaporti, altrimenti ce li avremmo tutti noi qui con la carta d'identità, avremmo anche il passaporto, quello nostro tradizionale, e poi quello sanitario che non c'è. Nei prossimi giorni, nelle prossime ore, l'ultimo click che c'è tra i tanti interruttori, come dicevo prima non ce n'è uno, sono stati tanti, che riporterà il Paese a muoversi, ci dovrà essere anche quello del buonsenso. Perché se tutte le regioni ripartono, ripartono senza distinzione sul profilo dei cittadini residenti in una regione o in un'altra. Se le autorità sanitarie, se il Governo deciderà e quando deciderà che il Paese è pronto per la ripartenza. La distinzione tra cittadini che arrivano da una città, anzi che da un'altra, non è prevista nella nostra Costituzione e se siamo tutti sani ci muoviamo nel Paese come abbiamo sempre fatto.